Ma buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro bomber nero azzurro Allora è finita in questo momento a San Siro tra Inter e Borussia Mönchengladbach Ragazzi innanzitutto ho da dire un parere mio arbitraggi come questi di stasera devono essere banditi dal gioco del calcio perché compromettere una partita nettamente dominata dove ho visto solo gioco sporco e gioco fisico da parte di Borussia Mönchengladbach due tiri, due gol, neanche due tiri e due gol perché uno su rigore non si conta manco tiro e il secondo su una posizione netta di fuorigioco sul tocco dell'attaccante centrale di tacco che scaturisce così dopo un altro passaggio verso l'ala destra che è nettamente in posizione di fuorigioco ma nessuno dice niente, va a vedere niente mentre i rigori palesi che ci stanno perché il rigore che ha fatto Vidal sui giocatori di Borussia è un rigore netto Premetto che i risultati come questi di stasera sono immeritati, l'Inter ha pareggiato immeritatamente meritavamo nettamente la vittoria, siamo stati più forti dell'avversario come lo era sulla carta, lo è stato in campo ma l'albitraggio stasera ha dato il suo un arbitraggio veramente scandaloso, io non ho parole per questo arbitraggio per chi mette questi arbitri, dico solo, si faccia un esame di coscienza sugli arbitri che va a decidere in una competizione europea così importante come la UEFA Champions League complimenti all'albitro di stasera per aver rovinato una vittoria da parte dell'Inter a parte vittoria si doveva ancora vedere perché eri sempre sull'1-1 comunque ma sicuramente con la grinta e l'orgoglio della nostra squadra saremmo andati sicuramente a vincere la stasera partita e la dovevi vincere, la dovevi vincere perché era meritato vincerla quindi ragazzi l'albitro ha compromesso una partita, l'albitro ha compromesso una partita di una partita che non dici una partita di serie A e dove ormai ne vediamo di cotte di crude allora lo accettiamo ma una partita di livello europeo di una competizione della massima competizione europea complimenti, no veramente complimenti complimenti a questo arbitraggio insulso poi voglio fare gli applausi, veramente gli applausi a Matteo Darmian che è stato vicinissimo anche al gol io non ci avrei scommesso tanto su Darmian e invece se Darmian dà modo di vedersi anche dall'altra fascia potrebbe rubare il posto a quel deficiente di Perisic visto appena rientrerà Kimi vedremo perché Young è risultato ancora positivo in questa giornata quindi per lui ci saranno ulteriori tamponi, ulteriori giorni di quarantena notizie di screen al Gagliardini non ne abbiamo per il momento non sono uscite indiscrezioni comunque che devo dire alla mia squadra ci ha messo la grinta, ci ha messo il coraggio, la voglia di vincere la partita magari sì abbiamo dormito su qualche ripiegamento di loro ma soffrivamo abbiamo sofferto perché soprattutto i palloni inattivi abbiamo sofferto i palloni inattivi per il fatto semplice dei due centrali che non sono centrali ovvero D'Ambrosio e Kolarov che sono anche di statura non diciamo non tanto alta e allora subisci nettamente sulle palle inattive però i gol sono arrivati uno come ho detto sul calcio di rigore netto e su un fuorigioco di loro comunque sia a mio avviso quando c'è stato il cross in mezzo di Darmian che Lautaro tira sul palo la palla stava per finire su Lukaku sarebbe finita su Lukaku se il difensore De Borussia Moccheglabak non l'avrebbe stoppata con il braccio avambraccio comunque complimenti all'albitro come abbiamo ripetuto e niente ai miei ragazzi non sento di dirmi niente perché hanno lottato ogni minuto fino al novantasettesimo sempre Forza Inter Juve merda Maledetti Gufi Milan merda niente andiamo avanti e ci vediamo per il campionato alla prossima ragazzi buonanotte a tutti e grazie per essere stati live con me stasera un bacione a tutti ciao boys